Siamo al punto che oggi un ettaro su sei coltivati in Italia sono già certificati biologici, che significa circa il 15% della superficie agricola, direi in particolare al sud, che rappresenta il 64% di queste superfici, siamo intorno ormai quasi a 2 milioni di ettari, quindi direi siamo a un ottimo punto. Che idea si è fatta della locuzione terra dei fuochi? È un'idea sicuramente di criminalità che evidentemente governa più di altri un territorio, di una situazione che bisogna evidentemente recuperare, bonificare, su cui, come ho detto prima anche al convegno, secondo me l'agricoltura biologica in prospettiva è la risposta. Dobbiamo passare a un sistema non governato, non gestito, preda della criminalità, un sistema certificato, tracciato di qualità, che attraverso il biologico possa anche contribuire a risanare l'ambiente. Il cambio del clima in Italia, ormai risaputo, quanto sta influendo sull'agricoltura in generale? Beh, diciamo che in generale si sta capendo che questo è un settore che in particolare per il sud Italia può dare un fortissimo contributo al rilancio dell'economia, all'occupazione. È, credo, molto connesso anche al tema del turismo, della fruizione del territorio, che è un altro driver importante, penso, per lo sviluppo del sud. E direi in generale c'è la consapevolezza che abbiamo un grande valore nell'agricoltura, nell'agricoltura e nell'alimentare italiano. E mi pare che con questo governo, penso anche all'idea di fare un logo del Biolo per il biologico nazionale, ci sia più voglia, più intenzione, più determinazione per difendere e promuovere e sviluppare la nostra agricoltura. È un modello di agricoltura che sia locale e sostenibile, quindi, ripeto, biologica e tipica. Sostenibilità e finanziamenti. Come si può attingere, secondo lei, a questo tipo di proposte, soprattutto da parte delle regioni? Dobbiamo dire, anzitutto, che è stato fatto non moltissimo con gli attuali piani sviluppo rurale, con l'attuale pianificazione delle fondi PAC, ma la nuova pianificazione della PAC chiede esplicitamente molta più sostenibilità e molto probabilmente ci sarà molto più spazio per il biologico e molto meno spazio per l'agricoltura cosiddetta integrata, convenzionale, che ormai è diventata una pratica obbligatoria e quindi non ha neanche senso che venga finanziata ulteriormente. Quindi, anche questo, secondo me, è il motivo per cui, in particolare, nelle zone vocate al biologico come il Sud Italia, bisogna che i prossimi piani sviluppo orale siano con assoluta priorità al biologico, che non significa solo mettere i soldi sulle superfici, come ha detto oggi il Consiglio Delegato, ma dobbiamo investire su formazione, consulenza, ricerca, promozione, perché senza questo contorno non serve probabilmente, anzi può essere appunto dannoso dare semplicemente dei contributi etero che poi rischiano di essere puro assistenzialismo.